Signore e signori ben ritrovati con il nostro Trading Club, il martedì come di consueto torniamo a parlare di materie prime. Prima della Pasqua, comunque in quel periodo, abbiamo parlato un po' dell'impatto che possono avere le banche centrali anche sui prezzi delle materie prime, perché le banche centrali, influendo sulle valute attraverso le loro scelte, chiaramente poi c'è un impatto che si riversa anche sulle materie prime, non solo per quel che riguarda il dollaro e quindi le decisioni della Fed, ma abbiamo visto anche l'esempio della banca centrale brasiliana con un possibile impatto sulle materie prime che si producono in quel paese, soprattutto zucchero e caffè. Ripartiamo un po' con questi argomenti e quest'oggi andiamo un po' più nel dettaglio per quel che riguarda lo zucchero, ma prima di arrivare proprio nel dettaglio di questa materia prima, cerchiamo anche di capire come si sono mosse le valute di cui abbiamo parlato precedentemente, così almeno da avere un riferimento in più anche per queste analisi e queste possibili scelte proprio appunto sullo zucchero. Ora, in questo momento stiamo vedendo il grafico del Real brasiliano. Vediamo come si era ripreso un po' nei giorni precedenti, anche alla luce proprio di quello che avevamo raccontato sulle scelte della banca centrale brasiliana di alzare i tassi di interesse. Negli ultimi giorni però c'è stato un nuovo, diciamo, indebolimento che quindi può sicuramente mettere meno pressione per quel che riguarda magari la competizione tra Stati Uniti e Brasile. Andando a vedere l'euro-dollaro, anche in questo caso vediamo come in effetti si è ripreso un po' l'euro e quindi si è invece svalutato un po' il dollaro americano. Chiaramente più il dollaro si indebolisce nei confronti delle principali valute più queste tendono ad avere una boccata di respiro e quindi un po' un rilancio dei prezzi. Ma soffermandoci, come abbiamo annunciato sullo zucchero, andiamo a vedere un po' come si è comportato recentemente e alla luce anche un po' dei movimenti del real brasiliano come si potrebbe comportare anche nei prossimi mesi. Ci spostiamo su Alfa4Chart, il nostro software che ci permette di graficizzare sì le materie prime, ma anche le posizioni in spread, posizioni anche complesse con più future come i multileg in Butterfly e Condor. Ogni mese ci restituisce attraverso il Trade Explorer le migliori strategie del mese, quelle diciamo con la migliore statistica, non solo da un punto di vista stagionale, così da andare anche a ripulire questa statistica interessante ma un poco limitata. Ci sono altri strumenti come il T-Spread che ci aiutano sempre nell'operatività su materie prime e il primo maggio sarà in uscita anche una sezione relativa alle operazioni e al trading sull'azionario e sulle opzioni. Questo possono consentire una maggiore velocità di ricerca, di analisi e soprattutto di precisione operativa. Ma soffermandoci sempre sullo zucchero, qua vediamo il future con scadenza ottobre 2021. Vediamo che dopo una bella dinamica rialzista iniziata già lo scorso anno, diciamo dopo la prima ondata ribassista del lockdown, nel periodo estivo i prezzi hanno incominciato a riprendersi. C'è stato questo picco verso la fine di febbraio, poi proprio in linea con la stagionalità c'è stata un po' questa discesa. Negli ultimi giorni c'è stato invece questo rilancio, un pochettino rialzista, ma questa dinamica non troppo positiva continua un po' fino alla fine di questo mese. Poi da maggio c'è questa ripresa al rialzo. In questo caso abbiamo parlato di SB che viene definito anche come zucchero numero 11 ed è fondamentalmente lo zucchero grezzo, quello che si può estrarre o dalla canna da zucchero, che viene prodotta principalmente nei paesi tropicali, quindi ad esempio nel Centro America, ma vediamo anche un po' nell'America settentrionale, ma ad esempio in paesi come la Florida, il Texas, quindi diciamo paesi un poco più caldi e soprattutto la più grossa produzione in Brasile, ma vediamo produzioni anche ad esempio nel sud-est asiatico, in Thailandia e i paesi limitrofi. Diciamo che questo è quindi la materia prima grezza, poi una volta che viene lavorata otteniamo lo zucchero bianco che è indicato con il ticker SW e quindi è quello che arriva fondamentalmente sulla nostra tavola che usiamo per i dolci, per il caffè e tutto quello che ne consegue. Viene identificato come zucchero numero 16. Come possiamo vedere gli andamenti in effetti sono molto simili, andamento rialzista fino a febbraio, poi questo rientro, e quindi vediamo una grossa similitudine. Nel momento in cui però li mettiamo in spread, alcune stagionalità possono sicuramente cambiare, anche perché lo zucchero grezzo non necessariamente diventerà tutto zucchero bianco, ma viene molto utilizzato in Brasile soprattutto ma anche in altri paesi per la trasformazione in etanolo che è fondamentalmente un biocarburante come ormai ce ne sono sempre di più derivanti non solo da zucchero ma ad esempio anche dal mais, da oli vegetali e così via. Chiaramente più il prezzo del petrolio e di conseguenza della benzina sale, un po' come nell'ultimo periodo, più l'etanolo diventa appetibile, interessante, viceversa quando il prezzo della benzina scende di molto, allora si interrompe un po' la produzione di etanolo perché c'è meno convenienza. A questo proposito quindi diciamo che la domanda di etanolo nell'ultimo periodo, visti i prezzi in crescita dei petroliferi, è sicuramente aumentato. Quindi in base a quanta quota di zucchero grezzo diventa zucchero bianco, diventa etanolo, chiaramente possono cambiare i vari scenari operativi. Al di là di questa doverosa premessa e nonostante si è detto che un possibile rafforzamento del real brasiliano, anche se non l'abbiamo ancora visto, ci aspettiamo una possibile ripartenza dello zucchero che un po' abbiamo già visto nell'ultimo periodo. potrebbe soffrire ancora un po' la dinamica ribassista, però poi ci aspettiamo di più una dinamica rialzista dovuta anche un po' ad una discesa nella produzione globale e soprattutto anche in quella brasiliana, un po' dovuta sì per anche eventuali trasformazioni in etanolo, ma anche per problemi più legati al clima, legati alla produzione classica. Quindi un real brasiliano più forte, in prospettiva almeno, unito a una possibile discesa della produzione, allora sicuramente può rilanciare ancora di più i prezzi di questi beni. li vediamo anche a livello, chiamiamolo un pochettino più ampio come arco temporale storico, vediamo come i prezzi non sono sui minimi per quel che riguarda lo zucchero grezzo, ma sicuramente sono su valori abbastanza bassi se visti negli ultimi 15 anni. Quindi ci aspettiamo che possa esserci una continuazione rialzista. Stessa cosa per lo zucchero bianco che ha un grafico davvero piuttosto speculare al precedente. Utilizzare questi come singoli future non hanno solitamente un impatto economico così devastante, così elevato, però per tanti conti, tante capitalizzazioni, può risultare comunque eccessivo o anche per il nostro profilo di rischio. Pertanto è possibile costruire delle strategie in spread, ma se sullo zucchero grezzo vediamo sì una stagionalità rialzista a maggio, però il prezzo rimane piuttosto elevato per un'azione rialzista e quindi long, perché si trova al di sopra delle nostre medie stagionali. Se si trovasse al di sotto, visto che su Alfa e Frociarta sono effettivamente in scala, allora ci sarebbe sicuramente un vantaggio in più. Vantaggio che troviamo un po' di più sullo zucchero bianco, dove quantomeno il prezzo, come possiamo vedere attuale, è molto più in linea con le medie del passato. Lo vediamo anche su queste scadenze, non è proprio a pari, però molto più vicino rispetto a quello dello zucchero grezzo, e quindi magari si potrebbe sfruttare in maniera più agevole questa possibile stagionalità rialzista, che è un po' anche la stagionalità di ripartenza, che vediamo sui singoli grafici dello zucchero, però in questo modo possono diventare sicuramente più facili da seguire, con delle stagionalità ancora più forti, e quindi diciamo che a parità di rischio e di capitale l'operatività in spread è sempre più conveniente, perché la grossa riduzione sul margine ci può consentire, volendo, se vogliamo raggiungere gli stessi obiettivi di profitto, di svolgere e mettere in campo più contratti, che però ci permettono una migliore facilità di gestione, e quindi sempre più vantaggioso una scelta appunto in spread che sul singolo future, quasi sempre, ecco mi sento di dire questo perché in qualche caso potrebbe esserci anche qualche valutazione differente, ma ora abbiamo mostrato questa possibilità a livello diciamo direzionale di singolo future, a livello di spread trading sempre tra future, ma è assolutamente possibile pensare di utilizzare questa cosa anche con le opzioni, con l'acquisto di una call, con la vendita di un'opzione put, la costruzione di un vertical, poi con le opzioni veramente si può spaziare lungo e largo, e quindi da un'idea stagionale e non solo di questo tipo, si può poi sfruttare con strumenti, modalità, tecniche assolutamente differenti, così da scegliere quella che si sposa sempre meglio sulle nostre caratteristiche. Quindi l'obiettivo, un po' come recita il titolo, è quello di rendere questo 2021 un po' più dolce, con lo zucchero, ma al di là del nesso, sicuramente con un'operazione che può risultare interessante, ma non solo questa, tante altre sicuramente bollono nel nostro pentolone e quindi vi aspettiamo, come sempre anche nel nostro trading club, diciamo privato, in cui operiamo dal vivo, in cui queste scelte le definiamo dall'A alla Z, e ad esempio la diretta, per quel che riguarda le opzioni, è questa sera alle 18.30, abbiamo poi le materie prime il mercoledì e l'azionario il giovedì. In questo modo, anche su strategie multileg, potete sempre rimanere sul pezzo. Vi ringrazio di essere stati con me, con tutto il nostro team anche quest'oggi, vi rimando al prossimo video, già nella giornata di domani. Ciao a tutti, a presto.